un saluto da andrea castriotta e benvenuti alla nuova puntata di capitanate sport magazine ovviamente tutto lo sport della nostra terra a descrizione del calcio siamo sempre qui su mitico channel e anzi invitiamo tutti ad iscrivervi al nostro canale appunto che sta crescendo sempre di più complimenti all'ottimo lavoro di biaggio corricelli e tutti i ragazzi che si stanno spendendo benissimo per questo canale bene siccome gli argomenti da trattare sono davvero tanti entriamo subito nel vivo della trasmissione parlando di pallavolo femminile serie b1 girone di la di lillo libera virtus cerignola perde in trasferta contro giovolle aprilia purtroppo anche la bcc sgr voli manfredonia perde in casa ma la mentre contro fiamme torrese per 3 7 a 0 peccato per le ragazze di basta appunto le manfredoniane che sono penultime in classifica ferme a 12 punti un po più in alto invece ci sono le ragazze cerignorane a 17 punti scendendo di categoria in b2 girone i ennesimo risultato positivo per le terribile ragazze della pallavolo cerignola ricordiamo sono una matricola in questa categoria e hanno battuto in trasferta messina volley per 3 7 a 1 vogliamo sottolineare che le ragazze le pantere fucsia abbiano perso il primo set poi insomma si siano distese e appunto abbiano vinto questa fantastica partita ricordiamo le ragazze di mister filannino sono al secondo posto a 32 punti benissimo davvero per per questo campionato per le ragazze cerignorane in serie di girone a rapida successione di risultati olimpia orta nuova perde in casa contro just british volley bitonto asd pegason 93 batte svg energia lucera per 3 7 a 0 volley giovinazzo perde contro foggia volley per 3 7 a 2 infine purtroppo farmacia affairs lucera perde in casa contro progetto batte in classifica le ragazze foggiane allenate da valeria di mauro sono al quarto posto con 31 punti al settimo posto più in giù ci sono le ragazze della svg energia lucera di mister danilo danilo barbaro e fausto baccari con 23 punti un po più giù ci sono le ragazze le cugine le lucerine della farmacia fare su cera di mister giovanni furno e infine al terz'ultima in terz'ultima posizione troviamo le ragazze di antonio massa le ortesi a 12 punti per quanto concerne la pallavolo maschile in serie c girone a l'enrico tecnomaster punto biz cerignola conquista diciamo l'ennesima perla battendo in casa la pallavolo molfetta per 3 7 a 1 la la ds gruppo lucera segue a ruota i ragazzi cerignolani battendo in trasferta trivianum per 3 7 a 1 l'unipolzai lucera riposa e quindi sicuramente sabato prossimo speriamo ci porti un nuovo risultato positivo cambiando sport pallacanestro maschile andava di scena il derbissimo di capitanata allianz pazienza sansevero contro castellana udas cerignola i ragazzi cerignolani hanno effettuato una bellissima partita ma il risultato appunto è andato in favore dei sanseveresi che in trasferta hanno battuto cerignola per 74 a 67 in serie c silver girone a la silac manfredoni aperte a castellaneta per 107 a 83 peccato per i sipontini che comunque nel primo quarto erano addirittura in vantaggio poi hanno subito la rimonta e purtroppo il risultato è anche abbastanza pesantino invece nella nell'anticipo la sunshine bieste batte kuss ionico taranto per 82 a 67 in trasferta ottimo risultato per i ragazzi di francesco de santis che speriamo possano proseguire in questo buon campionato in serie di girone a anche qui derbissimo cittadino tra kuss foggia basket e diamond foggia va in favore dei degli ospiti appunto di coach vigilante e la diamond vince questa partita ormai sono sono davvero proiettati in zona playoff o meglio hanno già conquistato il diritto di essere ammessi ai playoff qui facciamo davvero un grande in bocca al lupo in promozione girone a sveva lucera batte in trasferta la nuova virtus corato per 79 a 69 ricordiamo erano appunto si si contrapponevano la prima e la seconda forza del campionato ottimo risultato per i ragazzi lucerini che sono sempre più primi nel primissimi nel proprio girone poi virtus foggia batte bulls basket bisceglie per 82 a 75 infine due risultati negativi per le altre compagine foggiani appunto la frassati san giovanni rotondo perde contro nike terlizzi per 80 a 58 e infine basket lucera cede in casa contro summo creazioni ruvo per 48 a 74 in favore degli ospiti adesso parliamo di rugby cambiamo sport e in serie c2 il foggia rugby vince contro amatori rugby taranto per 29 a 12 ma adesso vogliamo parlare degli under cui vedete già le immagini bene andava in scena la partita contro santeramo qui a foggia ed i ragazzi fuggiani di mister cassinese si sono imposti per ben 112 a 0 dovrebbe essere il record con più punti in tutta la regione e quindi davvero facciamo un grandissimo complimenti a questi ragazzi vogliamo ricordare che remete appunto 7 di zingaro 4 di crescente 2 di corvino e poi una testa di bisceglie pompei di petrone e la cecilia spero davvero di aver detto tutti perché sono andati quasi a segno tutti quanti ora cambiamo sport vabbè palla a mano i ragazzi del sipontini della della shark free time erano fermi il campionato era fermo e ricordiamo si giocherà domenica 24 e i ragazzi sipontini saranno in trasferta contro lazio prima dei saluti finali ultimo servizio di giornata scherma perché campioni crescono e nella prova squadre under 14 di sciabola disputata a lucca buona prestazione dei ragazzi dei ragazzini dei futuri campioni del club scherma sansevero vogliamo ricordare soprattutto nella categoria ragazzi allievi il quartetto formato da vincenzo cannelonga matteo damato nicola pio guascito e antonio miale è partito bene con due vittorie su tre nella fase a girone purtroppo si sono fermati agli ottavi di finale ma ricordiamo sottolineiamo l'ottima prestazione appunto non a posizione su ben 22 squadre noi auspichiamo che insomma questi ragazzini possano seguire le orme di gigi samele di martina crisci ovviamente ma anche dei loro compagni di squadra giovanissimi come nardella e ciro buenza appunto figlio d'arte che è figlio di benedetto il maestro storico del club scherma sansevero bene siamo i saluti finali e pertanto vi ricordiamo ancora una volta di seguirci sui nostri social in primis capitannate in sport su facebook ovviamente mitico channel sia su facebook che sul canale youtube e ovviamente ricordiamo ancora una volta di inviarci le vostre i vostri risultati le vostre foto immagini riguardanti tutte le attività sportive alla mail info chiocciola capitanate sport punto it grazie per l'attenzione a presto a risentirci a prestissimo grazie ancora salve viva lo sport della nostra terra a a a a a a a a a